Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 41esimo episodio della nostra serie della Master League con la Roma Signori, allora signori, noi veniamo dallo scorso episodio in cui abbiamo battuto il Barcellona e siamo primi in classifica straordinario, straordinario noi ricordiamo che abbiamo l'obiettivo di arrivare almeno fra le prime 8 quindi quantomeno a metà classifica e non siamo messi assolutamente male abbiamo 7 punti di vantaggio proprio sul Barcellona che l'ottava squadra in classifica detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto vi ricordo di iscrivervi al canale anche se già siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo dei 2000 iscritti siamo ancora lì, ballozzoliamo un pochetto ma ci siamo, signore, ma ci siamo detto questo, io vi aspetto sabato in live alle 3 qui sul canale per giocare insieme e per festeggiare questo traguardo grazie a vostro aiuto detto questo, signori, noi che avete dato tanti suggerimenti cercheremo, mi avete dato suggerimenti di cambiare il modulo ma sinceramente con questo modulo mi trovo abbastanza bene non abbiamo granché soldi, se non ricordo male perché abbiamo 24 punti siamo a buon punto con i punti ma ci servono altri punti per poter fare acquisti con punti importanti detto questo è un giro di parole assurdo però va bene, signori, tranquilli che il mobilio è a posto lo riparo ogni volta che finisco di registrare un video e quindi ogni volta possiamo continuare a dare i bei pugni e sfogatori che ci servono tanto detto questo, signori, noi non perdiamo altro tempo direi di partire subito e procedere al prossimo incontro se sentite un po' quella voce diversa non è un effetto audio che ho messo ma bensì sono raffreddato, signori, ebbene sì breve storie, breve storie tristi allora, formazioni allora, postazione di formazioni andiamo a gestire la formazione come ogni volta mi avete detto come cazzarola sistemare e come salvare praticamente le formazioni quindi vediamo se ci riusciamo, signori io ringrazio sempre per i commenti che mi lasciate sempre utili e importanti facciamo un pochino così però, ok ok, no, Miranda sta lì castello con quegli esterni li mettiamo un po' più indietro e un po' più larghi così al solito dovrebbe funzionare, sì ora, cambiamo totalmente la squadra Harry passa al centro Miranda esce per Babangida Stojkavic esce per Espimas Castello esce per Giorny ok, Cafu torna e gioca a destra Vali arriva a centrale Cellini esce per Totti e Vorlangen entra per Ximenes ok, diciamo che la squadra c'è sulla sinistra abbiamo Stromer eh, pop, 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 pop a Sesi l'ha espulso ma se ci mettiamo un Espimas, così un Espimas selvaggio un Espimas selvaggio, signori sulla corsia di sinistra che ce ne frega a noi noi lo proviamo detto questo, mi avete detto di fare copia formazione salva dati 1 copia inutilizzato eh, perché a me non mi fai salvare copia formazione Roma sei sicuro che vorrei copiare? sì ok 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 ehm attualmente è in uso dovrebbe aver funzionato penso di sì non mi fa salvare, signori quindi vediamo un attimino gestione dati di formazione salva la Roma memory card 1 forse ci siamo riusciti forse, forse slot forse, forse forse formazione sì forse signori siamo riusciti a salvare la formazione in trasferza ringrazio chi mi ha lasciato il commento che forse mi ha salvato la vita per i prossimi video e non dover ogni volta andare a gestire queste cazzarole delle deformazioni ci è quanto il Litz, signori non so dove sono messi in classifica ma sicuramente sono sotto di noi perché noi siamo primi quindi non facciamo cappellate, signori portiamoci a casa i tre punti anche contro il Litz oggi anche perché abbiamo bisogno di soldi, signori abbiamo bisogno di soldi allora io devo un attimino riprendere i comandi ah, perfetto belli, belli riprendiamo subito bene no ma come? ma sto scherzando ma no, vabbè signori questa non me l'aspettavo proprio questa non me l'aspettavo espulso dopo un minuto di gioco no, vabbè no, no, no espulso dopo un minuto di gioco non mi sta per niente bene, signori espulso dopo un minuto di gioco intanto abbiamo abbiamo giorni su questa fascia e non babangita attenzione ancora non ci posso credere cioè era un tentativo che volevamo fare lì con Espimas e ce l'hanno buttato fuori subito così neanche il tempo di dire ah, potrebbe funzionare no, vabbè grandissimo grande Ivanov ci salva ancora lui ci salva lui da un inizio impressionante se non abbiamo più il giocatore sulla fascia bene, va bene va bene dettagli, dettagli Cafu Cafu per Bamba Bamba per Vorlangen Vorlangen per Stokavic no, Stokavic è mio scorso video ti ho esaltato tanto mi davi sicurezza hanno cambiato stile di gioco allora, questo Litz è partito carico questo Litz giustamente contro i primi in classifica non vuole fare brutta figura e quindi giustamente giustamente deve dimostrare di essere in palla e giocare bene ma noi dobbiamo dimostrare di essere ancora più di loro in palla giorni cazzarola la potevi prendere tranquillamente mamma mia mamma mia mamma mia Cafu 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 cerca il Bamba cerca il Bamba che ha le praterie signori il Bamba se ne va il Bamba se ne va il Bamba se ne va non lo fermano non lo fermano signori è gravissimo errore gravissimo errore nemmeno lui si è fermato però mannaggia a chi non te lo dice pure mamma mia ma porca miseria leva lì la palla leva lì la palla grandissimo Cafu dai 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 il recupero grandissimo il recupero Turam Turam che vede ancora il Bamba che vede ancora il Bamba che cerca per vedere centrare la Rì Rì la patella per Vorlangen Vorlangen per Varli Valeri per Totti Totti la gira qualcuno giustamente lì doveva esserci Spimas Totti dice vando a cazzo allora è Spimas espulso dopo un minuto bene ovviamente Totti si ricordava che ancora lì ci fosse Spimas e invece no 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 non c'è più Spimas alle signori Totti deve un attimino modificare la sua mentalità grandissimo giorni che anticipa tu dai Totti mio ti avevo dato l'input per tirarla per passarla veramente fuori sta palla buono 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 così ok Stoekavic 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 che nel scorso video ci ha dato tanta sicurezza Stoekavic 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 cercato l'uno due bellissimo Stoekavic no ma perché sei così lento ci fosse stato uno veloce lì signori li bruciavamo Valeri mio hai fatto la catinata e me l'hai recuperata signori gli vogliamo fare fare per forza sto gol ditemelo se glielo vogliamo fare per forza allora io alzo le mani e glielo facciamo fare e poi ripartiamo tutti belli tranquilli Cafu 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 cerca il Bamba cerca il Bamba che torna da Cafu Cafu per Stoekavic Stoekavic per un tot inesistente no bruttissimo tentativo di fare l'attenzione Valeri cerca di chiudere lateralmente Ivanov no questa è una partita venduta Ivanov si è venduto la partita signori ma come cazzo non è entrata sta palla no ma Ivanov si è venduto la partita signori non ci sono altre spiegazioni non ci sono altre spiegazioni signori Ivanov si è venduto la partita beh si è venduto il 2 Ivanov no l'1 l'1 perché giocano loro in casa Vorland è per Babangita ma noi siamo più forti signori noi siamo più forti Babangita 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 mannaggia Babangita Babangita per totti totti che riesce a girarsi totti 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 per Jorni che inquadra la porta Jorni la pareggia subito con un gol pauroso signori di sinistro mamma mia Jorni Jorni la pareggia lui e Ivanov si sta mangiando le mani cazzarola grande esterno sinistro porca miseria che gran gol di Jorni al 32esimo la rimettiamo sui binari giusti signori Ivanov si era venduto la partita ma non si ricorda che noi siamo la Roma signori noi siamo la Roma è ripartito il Bamba è ripartito il Bamba è ripartito il Bamba signori il Bamba non lo fermi il Bamba non lo fermi il Bamba non lo fermi Stojkavic il tiro no cosa ha sbagliato Stojkavic no cosa ha sbagliato Stojkavic signori il Bamba è passato tra due difensori in maniera impressionante Jorni la recupera lui Jorni per Totti 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 riesce a liberarsi Totti è partito Totti è partito Totti cerca Stojkavic 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 no mannaggia grandissimo l'intervento di Valery che la tiene Valery per Stojkavic 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 cercato ancora l'uno due con Totti Stojkavic Stojkavic e la Roma l'ha rivolta con un'azione spettacolare signori degna del miglior calcio grandissimo 1-2 Totti Stojkavic che di destra prima di subire un fallo terribile si porta a casa il gol del 2-1 grandissimo grandissimo finalmente un 1-2 riuscito fra Totti e Stojkavic fra Rie e Stojkavic signori ogni volta non ci arriva mai velocemente questa volta c'è arrivato attenzione però evitiamo di far arrivare la palla verso Ivanove perché si è venduto la partita Ivanove signori Cafu cerca il Bamba che ha le praterie signori le praterie del Bamba è partito il Bamba è partito il Bamba che la rimette dietro attenzione Stojkavic ancora Stojkavic si gira su se stesso Stojkavic non riesce la magia minuto di recupero minuto di recupero tutti grandissimi recupero di tutti signori giorni 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 al limite giorni no ho sbagliato tasto annaggia dovevo crossarla sbagliato tasto volevo crossarla può essere che Rie riusciva a spizzarla di testa la chiudavamo signori gran primo tempo gran primo tempo non facciamo nulla giochiamo continuiamo a giocare così mi sta bene mi sta bene ricordiamoci che dietro ai giorni non abbiamo il difensore Cafu 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 per Babangita Babangita per Stojkavic 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 riesce a girarsi Stojkavic Stojkavic cercato l'1-2 con Babangita che non è riuscito però attenzione turam 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 di testa riesce a anticipare grandissimo l'intervento e la Roma riparte no non riesce a ripartire Cafu attenzione attenzione Borland grandissimo Valery che la butta fuori non mi aspettavo questa questa no 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 signori meno male che abbiamo Turam fuori gioco ok non mi aspettavo il calcio scommesso su PES signori non mi aspettavo completamente Il calcio scommesso su Pes Cafu, ma anche questo è arrivato qui Attenzione, Cafu, Babangita, si ferma Il Bamba, il Bamba, il Bamba, vede Cafu Vede Cafu che vede Stokavic Stokavic che vede Totti, Totti, Totti Che vede il Bamba, che vede il Bamba Che vede il Bamba, che vede il Bamba Caffu, 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 Caffu Grandissimo gioco di squadra della Roma Passaggi e passaggi che vanno Sembra buon segno, attenzione ancora Cafu Oh, con la fascia, niente da fare Sono stati più bambini di noi Ma Vorlangen non lo fermi Vorlangen è un armadio, signori Pala per Harry, 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 Harry Cospetto ad allargarsi un poco Per trovare un pallone giocabile Perché i compagni non, no, no No, veramente Stokavic l'ha cercato Stokavic, Harry Oh, Stokavic ha tentennato due secondi Mannaggia, se Stokavic partiva subito Non dobbiamo chiudere, signori Questo 2-1 non mi piace per niente Harry, 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 Harry Si gira, Harry Dai così, signori Neanche il tempo di finire di dire Che dobbiamo chiuderla Che Harry l'ha chiusa, signori Fa fuori il difensore E poi un tiro Un po' così Mi sa che se l'è venduta Anche il portiere del Litz Comunque Non so chi Dei due Se la sia venduta di più Se Ivano o il portiere del Litz Praticamente Che anche ha preso tre gol Che Che parliamone Ha preso tre gol Vorlanden, Vorlanden, Vorlanden Cercato il Bamba Che ha praterie No, no, no Che ha praterie Ma non riesce a sfruttarle Il Bamba Il Bamba Attenzione No Mamma mia Mamma mia Attenzione Cafu Che cazzarola fai Cafu Signori Vedete che Ivano Si è venduto la partita Se la palla arriva a Ivano Prendiamo il gol Eccolo 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 Stojkavic Nella posizione Che non è la sua Cercate Harry Bello Il passaggio su Harry Bellissimo Il passaggio su Harry Babangida Cerca di nuovo Harry Che però non riesce Non riesce Nell'azione A infiltrarsi meglio Attenzione Ancora 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 Bellissime Recupero di palla Vorlanden 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 Non sa che fare Non è il suo ruolo Quello lì Cerca Harry Cerca Harry Che gli restituisce il pallone Mannaggia Con calma Valery 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 Cerca Totti Totti Per via Cerdale Per Vorlanden 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 Al limite Mannaggia Vorlanden Ha cercato Ha cercato Harry Però il passaggio Non è stato dei migliori Ancora Il pallone è recuperato Thuram Babangita Che riparte Lui Babangita Da quando la Roma Ha iniziato a fare Gioco di squadra Babangita Non è più così Incisivo Come le prime volte Annaggia Li potevo tirare Li potevo tirare col Bamba Li potevo tirare col Bamba Non ci ho creduto Vorlanden Babangita Babangita Che lancia Cafu È lanciato Cafu È partito Cafu È partito il pendolino È partito il pendolino È partito il pendolino È partito il pendolino Che la passa Harry La passa proprio al portiere Stacco di testa Attenzione Ancora Attenzione Litz Eh ve l'ho detto Cioè Non so chi del due Se la sia venduta di più La partita Cioè Ivan Non vuoi che si fa bucare così Parliamone Cioè Gran gol Gran tiro di Keywell Però Porca miseria Non so chi del due Se la sia venduta di più No Che cazzo la fa Cafu Anche Cafu si è venduto la partita Signori Anche Cafu Decisamente si è venduto la partita Abbiamo avuto Una 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 chiara Impressione Che Cafu si sia venduto la partita Attenzione Perché l'unico che non si vende le partite è Bamba L'unico che non si vende le partite è Bamba E bannaggia Signori Trentacinquesimo Stiamo No Che brutto fallo di chi Di Stoekavic Che si vende giallo Brutto fallo Di Stoekavic Attenzione Ancora Stoekavic Proprio lui Stoekavic Che si ha appena preso il giallo Per far capire ai compagni Che devono continuare a crederci Perde il pallone Lo trovo Allora Recupera Babangita Ancora Vorlanden Stoekavic Stoekavic Cercate il Bamba Che riesce a girarsi su te stesso Il Bamba Il Bamba Il Bamba Vuole metterci Anche lui Va bene Calcio d'angolo Vuole metterci il timbo 3 a 2 Babangita Babangita Per Vorlanden Che riesce a girarsi Vorlanden 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 Che cazzo Per Totti 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 Oh Mannaggia Attenzione La palla rimane lì Vorlanden Ancora Vorlanden Per Stoekavic 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 Cercato il Bamba Che si libera Il Bamba La fa partire Ah Anticipo di testa Fuori gioco Al 43esimo Di Harry Fuori gioco Al 43esimo Di Harry Punizione Per il Leeds Attenzione Parte Il rinvio Del portiere Colpo di testa Attenzione La palla Che arriva Harry 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 Ma è solo Solissimo Non sa che fare Harry è solo Solissimo Non sa che fare Il Leeds Riparte Attenzione Attenzione Signore Attenzione Attenzione Che le conosco Queste azioni Del gioco Le conosco Queste azioni Del gioco Le conosco Mamma mia Non si alza Il gioco Del Leeds Betty Betty Si è infortunato Nei minuti Finali Della partita Calcio Punizione 39 metri Attenzione Keywell La batte lui Pallone Al limite Dell'aria Pallone Al limite Dell'aria Calcio D'angolo Calcio D'angolo Per il Leeds Attenzione Mamma mia La beffa Finale No La beffa Finale No Calcio D'angolo Keywell La spada Pacchia Ewell Non ho capito Che cosa Ha detto Altro calcio D'angolo Ivanov Non è andato A prenderla Ancora Keywell Attenzione Concentrati Signori Parte il traversone Parte il traversone Lo sapevo Io 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 Che beffa Terribile Che beffa Terribile Contro il Leeds Signori Non ci posso credere Che è stato Vorlando E non farsi Scavalcare Ma Porca Ci manca Che mi butta fuori Pure Babangita Ammonito Pure Babangita La prossima partita La giochiamo Con i panchinari Praticamente Ma Vaffanbagno Finisce così Signori 3 a 3 Fra Roma E Leeds Mamma mia Vincevamo 3 a 1 Vincevamo 3 a 1 Cioè Le scommesse Non l'hanno prese Né i portieri Leeds Né Ivanov Perché il pareggio Non va bene A nessuno Praticamente Mannaggia a voi Ecco E non ve lo dice pure Totti per giorni Arri per sto i cavi C'è Cafu Pare Arri E'vano uscito a fare Lo spettacolo Porca miseria L'avevamo chiusa 3 a 1 3 a 1 L'avevamo chiusa Ricordiamo che avevamo anche L'uomo in meno Però E' andata così Signori 28 punticini 28 punticini Signori 28 punticini Perdiamo la testa La classifica Ai danni della Lazio Che ci supera Di un punto E il Bayern di Monaco E' dietro A noi A un punticino Che ci sta lì A mettere pressione A mettere pressione Detto questo Con questi Be 28 punticini Potremmo andare a prendere Davids No Perché costa 36 Ma parca miseria Però potremmo andare a prendere Il marocchino Arg Che ne costa 26 Si potrebbe fare Lo facciamo? Ma lo faremo Se lo facciamo Nel prossimo video Signori Io per il momento Mi fermo qui Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao